La squadra a sostegno della candidatura a sindaco di Marco Lanzi si è completata con la sesta e ultima lista a presentarsi in ordine cronologico. Quella del gruppo di Forza Italia, noi moderati Udc, presentatosi al bar-ristorante Utopia del Parco Miralfiore, sospinto dall'ottimismo di chi crede fermamente che a Pesaro i tempi siano maturi per la svolta del cambiamento. Riteniamo primo che Marco Lanzi sia una risorsa importante e che la città di Pesaro non possa sciupare a questa occasione, che ha di finalmente provare un'alternanza dopo 70 anni di passi di governo di un colore solo. È una brava persona e abbiamo creato intorno a lui una bella squadra e un programma molto valido. Noi riteniamo che Forza Italia, senza presunzione, avrà un ruolo importante in questa competizione elettorale perché ci mette competenza, ci mette esperienza e ha idee chiare su quello che è il futuro della città. Fra i temi esternati, quelli dell'istituzione e di un'assessorata alle manutenzioni, ma anche una diversa gestione del porto, così come della cultura cittadina. È preciso sulla cultura, per esempio. Riteniamo che la città di Pesaro non stia utilizzando in pieno le capacità che questa bellissima città con una storia importante ha. E poi riteniamo che debba cambiare la modalità di amministrazione e che tutte le decisioni che l'amministrazione deve prendere devono essere in condivisione con i quartieri, con i cittadini e su questo noi daremo il nostro contributo. Da Cecconi ad Alessandro Di Domenico, dal segretario DC Fabio Giovannelli all'ex candidato sindaco Marco Zanotti, un gruppo di lavoro esperto che ha ricevuto nell'occasione il sostegno della candidata alle europee Graziella Ciriaci e dell'assessore Stefano Aguzzi. Io apprezzo molto la scelta di Forza Italia, del mio partito, in questa città, di sostenere la candidatura di Lanzi perché secondo me è un'ottima candidatura che può avere anche possibilità di vittoria al contrario di quelli che molti pensano, no? Ma la peso la sinistra ha sempre governato. Anche a Fano la sinistra aveva sempre governato, quando nel 2004 io mi candidai e la sconfissi. Poi c'è un'altra questione che va chiarita. Tendenzialmente la sinistra dice solo noi siamo capaci a governare, solo noi abbiamo la cultura di governo. Dove hai sempre governato è chiaro che tu hai una cultura di governo, ma non è detto che non la possono avere anche da altri. Ecco a Fano, quando io vinsi nel 2004, mi sentivo dire proprio questo, non hanno cultura di governo. Bene, credo che i miei dieci anni da sindaco a Fano con la coalizione di centrodestra abbia invece dimostrato il contrario, che noi non solo abbiamo cultura di governo, ma abbiamo delle grandi capacità. Quindi è troppo facile dire solo noi siamo capaci di governare. Facciamo provare gli altri e sono convinto che chi non ha governato mai ha ancora più voglia, oltre alle capacità, di dimostrare di fare bene.